Buongiorno a tutti i telespettatori di 24 Live e benvenuti alla settima puntata del progetto dedicato alla riscoperta dei monumenti di Barcellona Pozzo di Cotto, ideato dalla prologa Alessandro Manganaro, preseduta da Flaviana Gullì e dalla testata giornalistica 24 Live. Comincio subito con ringraziare Giuseppe Pugliafido per queste riprese e i nostri sponsor, che sono l'Associazione Pro Sicilia e il negozio edilizia e siderurgia di Sebastiano Aricò. La Chiesa dell'Immacolata è il luogo in cui ambienteremo questa puntata e l'abbiamo voluta fare proprio qui, di fronte a questo monumento, in quanto a breve si avvicina la festa dell'Immacolata. Quest'anno, fra l'altro, non ci potrà essere la processione a cui i fedeli di Barcellona sono da sempre molto legati e quindi abbiamo voluto fare questo regalo ai nostri telespettatori, parlando della Chiesa dell'Immacolata, visitando anche luoghi poco conosciuti della stessa, come le cripte e la sagrestia, dove sono custodite alcune varie del Venerdì Santo. La Chiesa dell'Immacolata è stata costruita nel 1750, mentre la confraternita è di più antica fondazione, in quanto fu istituita nel 1702. La Chiesa dell'Immacolata è una facciata molto imponente, anche se piccola, voi forse ricorderete com'era prima dei restauri, ormai da oltre vent'anni è stata restaurata, e possiamo ammirare questa bella facciata con due torri campanarie, delle quali una ha funzione prettamente estetica, mentre l'altra funge da campanile e contiene le campane. Al centro possiamo notare una nicchia che custodisce una statua della titolare, la Madonna Immacolata. Sulla facciata campeggia la scritta Mostra te esse matrem, che significa Mostra che tu sei madre, e che deriva da una preghiera latina scritta da Venanzio Fortunato nel VI secolo. Venanzio Fortunato ricordiamo che è anche l'autore dell'inno Vexilla Regis, che noi barcelonesi chiamiamo popolarmente Visilla, e che viene cantata dietro le vare durante la processione del Venerdì Santo. La parte bassa della facciata della chiesa è scandita dall'esene, e al centro possiamo notare un bellissimo portale in pietra riccamente decorato. Molto bello anche il portone Ligno, dove è incastonato il monogramma di Maria, costituito da una A e da una M sovrapposte, che sono le iniziali dell'Ave Maria. La chiesa è anche delimitata da un piccolo sagrato, unico in città ad essere circondato con una bella ringhiera in ferro battuto. Ci troviamo nel coro della chiesa dell'Immacolata, e già da qui possiamo ammirare la bellezza di questa chiesa, che richiama moltissimo il periodo barocco, con queste belle decorazioni e questi stucchi che decorano il soffitto e le pareti laterali. Adesso scenderemo giù, anche il coro comunque ha delle bellissime decorazioni che si possono ammirare dall'interno della chiesa, e adesso scenderemo giù e vi mostreremo le opere d'arte custodite in questa navata, e le bellezze di questo luogo che è davvero un piccolo gioiello nel cuore di Barcellona Pozzo di Cotto. Ecco, proprio adesso siamo scesi nella navata della chiesa, e possiamo vedere la bellezza delle decorazioni del coro con questi angeli e che reggono queste ghirlande. Ai mirati possiamo vedere due quadri moderni ma molto belli, che raffigurano due importanti papi, che sono Giovanni e Paolo II, mentre alla mia destra possiamo ammirare il quadro di Papa Giovanni XXIII, soprannominato il Papa Buono. Adesso vi mostrerò la bellezza di questi due altari gemelli che decorano la navata della chiesa, sono due altari quasi barocchi, potremmo definirli. Quello alla mia destra racchiude la bella statua di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, degli artigiani e dei padri di famiglia. Anche questa è una statua ottocentesca che poi è stata restaurata nel 1987. Da notare davvero le bellissime decorazioni di questo altare. Ai lati dell'altare possiamo notare due medaglioni, che sono settecenteschi, probabilmente eseguiti dalla famiglia Vescosi, che era una famiglia di pittori barcellonese, e che raffigurano l'Annunciazione con l'Arcangelo Gabriele e Maria, mentre invece dall'altro lato possiamo ammirare la presentazione di Gesù al Tempio. Alla mia sinistra vi mostro uno degli altari più importanti della chiesa, dove è custodita la bellissima statua del Lecce Omo, una delle statue che vengono portate in processione durante il Venerdì Santo, e che secondo me è davvero una delle più belle, delle più espressive. Opera di Matteo Trovato, che l'eseguì nella prima metà del Novecento, è una statua che quando viene collocata sulla vara per la processione, spicca in tutta la sua bellezza, in quanto la vara viene addobbata con dei bellissimi carofani rossi. Possiamo ammirare anche le vesti che adornano questa statua, tra cui la bella mantellina del Lecce Omo, e questa statua, vi dicevo, ne ha sostituito con una più antica dell'Ottocento, che si trovava qui in origine. Ai lati di questo altare possiamo trovare altri due medaglioni settecenteschi, che raffigurano la visitazione di Maria, sua cugina, Sant'Elisabetta. Sullo sfondo possiamo notare San Zaccaria e San Giuseppe, mentre l'altro, che si trova alla destra dell'altare del Lecce Omo, raffigura la circoncisione di Gesù. Dei quadri piuttosto simili li troviamo anche nella chiesa di San Giovanni. Questo che state vedendo adesso è l'altare di San Luigi con Zaga, un santo un tempo molto venerato a Barcellona, in quanto è il padrono dei giovani. E proprio nel vecchio duomo di San Sebastiano vi era una congrega di luigini, a cui appartenevano giovani tra i 12 e i 16 anni. Ci troviamo adesso nel presbiterio della chiesa, che è la parte più riccamente decorata, più bella, dove era chiusa la nicchia che contiene la statua della Madonna Immacolata. Una statua del Settecento molto bella, ma completamente ridipinta, che a mio avviso andrebbe nuovamente restaurata e riportata ai colori originari. Possiamo vedere lo sfarzo della nicchia che la incornicia e anche le decorazioni della parte superiore, della parte più alta, che sembrano formare la M di Maria. Ai lati di questa nicchia troviamo altri due medaglioni sempre settecenteschi che raffigurano altre due scene della vita di Maria, ovvero l'assunzione in cielo, quello alla sinistra, mentre quello che si trova a destra raffigura una natività, che non è la natività di Gesù, ma è la natività di Maria, quindi la nascita della Madonna, che era figlia di Sant'Anna e di San Gioacchino. Ecco, quello che state vedendo adesso è, a mio avviso, l'oggetto più prezioso di tutta la Chiesa, il coro ligno che non appartiene a questa Chiesa, ma proviene dalla Chiesa di Gala, la Chiesa dei Basiliani del Monastero di Gala, di antichissima fondazione, che poi la regina dell'Asia del Vasto aveva rifondato nel 1105. L'Asia del Vasto era la moglie di Ruggero il Normanno e fu l'autrice del più antico documento custodito in Europa, che adesso si trova nell'archivio di Stato di Palermo. Ecco, questo coro ligno, poi i basiliani a un certo punto abbandonarono Gala nel settecento e fondarono il monastero dei basiliani che si trova alle spalle di questa Chiesa. E questo coro ligno non riuscirono a collocarlo nella nuova Chiesa e sicuramente lo vendettero o lo donarono, ma presumibilmente fu venduto, alla confraternità dell'Immacolata, che lo collocò in questa Chiesa. Sappiamo per certo che è un coro appartenente ai basiliani, perché possiamo notare qui lo stemma dei basiliani, che è costituito da una colonna in fiamme. La colonna in fiamme rappresenta la fede illesa di San Basilio. Come la colonna resistette alle fiamme, la fede di San Basilio resistette alle tentazioni. A Barcellona avvierano molti stemmi dei basiliani, tra cui uno nel monastero che troviamo alle spalle di questa Chiesa e che è stato recentemente rubato, e un altro si trova ancora oggi sulla grotta di Santa Venera. Ecco, immaginiamo questo coro con i monaci basiliani seduti sugli stalli durante la celebrazione, ed è davvero molto emozionante osservarlo, ed è un manufatto veramente preziosissimo che testimonia la storia dei monaci basiliani a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel coro dei basiliani c'è davvero una curiosità, quasi un piccolo passaggio sagreto mimetizzato che si apre, è una portaligna, che conduce alla sacrestia, dove vi sono davvero molte cose interessanti che adesso vi mostreremo. Allora, in questa sacrestia sono custodite ben due vare della processione del venerdì santo di Barcellona, quindi in questa piccola chiesa già troviamo tre vare, perché c'è l'Ecceomo in chiesa che vi ho mostrato prima, alle mie spalle la vara della Pietà eseguita a Lecce nel 1948, è una vara che si trovava nella chiesa dei basiliani, poi per motivi di sicurezza siccome dei vandali erano entrati in chiesa e l'avevano danneggiata, è stata portata qui e devo dire che è davvero ben custodita. È una vara che richiama un po' la statua vagamente, la statua dell'Apità di Michelangelo in cui troviamo la Madonna che tiene tra le braccia il Cristo morto. Un'altra vara davvero meravigliosa, secondo me, tra le più belle insieme a Lecceomo e la dolorata, è quella della deposizione di Gesù della Croce, seguita anche questa a Lecce nel 1948 dallo scultore e artista Pietro Indino. Questa vara è molto significativa, richiama anche un quadro del pittore Rubens e possiamo notare Gesù che viene sceso dalla croce. Vi ripeto, è a mio avviso una delle più belle e delle più artistiche. L'unica pecca sono questi neon che formano le oreole di Gesù della Madonna e di San Giovanni che io avrei sostituito con delle luci meno invasive ma devo dire che è davvero una vara stupenda. Sempre in sagrestia è custodito questo dipinto che raffigura Santa Monica con il figlio Sant'Agostino e che in origine si trovava nella chiesa. Il vero gioiello di questa sagrestia sono tuttavia questi preziosissimi paramenti sacri del Settecento che sono davvero un unicum a Barcellona anche se ne sono alcuni molto belli custoditi in Basilica a San Sebastiano provenienti dal Vecchio Duomo anche questi devo dire sono realizzati con tessuti veramente preziosi e possiamo notare anche la particolarità dei ricami. Ecco, questi sono oggetti che meriterebbero di stare in un museo d'arte sacra in molti paesi ecco, vengono istituiti questi musei d'arte sacra che oltre ai paramenti sacri raccolgono quadri e altri oggetti preziosi inerenti l'arte sacra e spesso infatti nelle sagrestie di Barcellona troviamo proprio gli oggetti più preziosi che per evitare di esporli in chiesa dove rischiano di essere rubati vengono custoditi nelle sagrestie e purtroppo possono essere raramente ammirati dai visitatori e dai turisti. Ecco, adesso vi mostreremo davvero in anteprima un'esclusiva per i telespettatori di 24 Hive le cripte che si trovano sotto questa chiesa che sono venute fuori durante i lavori di restauro del 2009 in cui è stato rifatto il pavimento della chiesa sono cripte realizzate nei primi dell'Ottocento che poi durante il Novecento l'ingresso era stato nascosto quando è stato rifatto il pavimento della chiesa e ripeto sono venuti alla luce questi ingressi durante i lavori del 2009 adesso scenderemo e vi mostreremo questi ambienti davvero unici ecco stiamo scendendo in questo ambiente davvero unico siamo nel sottosuolo di Barcellona Pozzo di Gotto dove prima della costruzione del cimitero venivano sepolti i defunti in questo luogo centinaia di barcelloni si sono stati sepolti vi faccio vedere le nicchie oltre una ventina che si trovano sulle pareti laterali dove venivano collocati i defunti e questa cripte è molto particolare perché al centro del pavimento notiamo anche un ossario dove poi venivano raccolte le ossa e anche sulla parete di fondo l'altare che decorava questo luogo infatti anticamente in queste cripte venivano celebrate anche le sante messe davvero un ambiente unico in molti paesi italiani questi luoghi poi vengono trasformati in dei veri e propri musei che si vaga per visitare ecco anche qui possiamo notare questa cassettina dove sono stati raccolti degli oggetti maniglie di casse si ne approfitto per ringraziare il signor Pipino Bertolami che ci ha permesso di visitare questi ambienti davvero unici che cura devo dire con grande amore sono scarpette pezzi di te ecco scarpi calze tutti gli oggetti che sono stati ritrovati in questa cripta nel 2009 quando è stata riaperta guardiamo anche che bella questa scala vista da qua sotto non ci avevo fatto caso scendendo davvero possiamo vedere come è stata realizzata con questi antichi materiali credo sia Coccio Pesto i pilastri che sorreggono la volta della cripta è un colpo d'occhio che ci mostra da qua giù il coro della chiesa di queste cripte sono due all'interno della chiesa perché ve ne è un'altra vicino l'ingresso della chiesa davvero un ambiente particolarissimo che merita di essere riscoperto dai barcellonesi purtroppo non sono visitabili noi ve le stiamo mostrando in anteprima ma non sono assolutamente visitabili allo stato attuale in quanto ancora mancano numerosi lavori di restauro e manutenzione andrebbe collocata un'illuminazione nuova e anche la scala andrebbe messa in sicurezza anche la reazione ecco di queste cripte a barcellona ne troviamo comunque diverse perché ci sono anche quelle dell'auditorium di San Vito quelle della chiesetta accanto San Vito e poi ve ne sono anche delle altre che sono completamente inaccessibili come quelle di Sant'Antonino o di altre chiese barcellonese dove negli anni sono state murate queste cripte che non sono più assolutamente visibili come i basiliani anche ecco abbiamo la fortuna in questo caso di poter visitare questo luogo davvero unico MEDE 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 Grazie per la visione!